Buon martedì 1 settembre. Accogliamo l'invito che Papa Francesco ci rivolge ogni anno del 2015, il primo settembre, a pregare per il creato, a farci i protagonisti del creato. Quest'anno le iniziative saranno molte e ci porteranno poi al 4 ottobre, giornata del ricordo di Francesco d'Assisi. Ebbene non è una questione di dettaglio la preghiera per il creato, è un invito alla meditazione, alla riflessione, cioè a un agire che sia autenticamente capace di cambiare il nostro modo di porci nei confronti della vita. Un invito sollecito a essere protagonisti di un cambiamento di stile di vita attraverso una rivisitazione radicale della nostra spiritualità. E credo che la preghiera abbia un elemento di estrema concretezza nel cambiare il nostro modo di porci nei confronti non solo del creato, ma nei confronti del modo di procedere nella vita. Noi facciamo parte del creato e se noi attraverso la preghiera riusciamo a dare impulso al cambiamento degli stili di vita credo sia il modo migliore per celebrare questo invito che Papa Francesco ci fa di pregare per il creato. Buona giornata a tutti.